ok allora cominciamo un attimo, non dico da zero, ma insomma un pochino prima torniamo un attimo indietro, allora le scene che abbiamo, vedete che c'è una scena pacchio che abbiamo visto prima, ma facciamo proprio da zero, cioè come abbiamo detto prima, quindi creiamo una nuova scena, facciamo una scena quindi create, tasto destro, qua praticamente nella parte del progetto, poi c'è il progetto e vediamo negli assets, possiamo farlo anche addirittura nella parte principale quindi assets e qui possiamo creare sostanzialmente una scena e la scena la chiamiamo Pluto e poi apriamo questa scena, allora questa scena fondamentalmente è vuota, allora quello che è essenziale in Unity è che una scena vuota non è in realtà completamente vuota, ma c'è almeno una main camera, che sarebbe praticamente, vedete che è la camera che fa vedere la scena e che si vede dall'alto, quindi praticamente è messa lì e poi c'è una luce direzionale che è questa, quindi fondamentalmente ci sono queste informazioni, a noi in realtà ci interessa almeno un posto dove muoverci e quindi noi cosa facciamo? Prendiamo un più e creiamo un 3D object, almeno un piano che abbiamo detto prima, il piano, questo piano in posizione, ecco facciamo doppio click sul piano, quindi ok, ce l'abbiamo qua, allora il piano è messo in un posto, ora per poter funzionare dobbiamo ricordarci di metterci un qualche cosa qua, insomma nel senso tipicamente si costruisce un materiale, quindi costruiamo anche qua sotto gli assets in maniera brutale, un materiale create material, il materiale serve per dargli un colore semplicemente, quindi facciamo e usiamo il render pipeline e lo facciamo semplicemente colorato di un colore, per esempio verde, quindi questo qui fondamentalmente diventerà il nostro colore verde, questo colore qua per ricordarci facciamo F2 e lo chiamiamo green, così sappiamo che è il materiale verde e questo materiale verde lo trasciniamo sopra il piano e quindi abbiamo fondamentalmente il nostro il nostro, il nostro, il nostro primo oggetto in Unity, il primo oggetto in Unity che comunque quindi prendiamo il piano, vedete che qua abbiamo la posizione del piano, vedete che è un po' alto perché Y è 0, quindi facciamo il reset delle posizioni, ok? Allora, il reset delle posizioni vuol dire che lo metto nella posizione naturale e quindi poi se clicchiamo per dire sulla main camera si vedrà il piano come si vedrà nel gioco, ok? Ora, l'asterisco vuol dire che dobbiamo ricordarci sempre di fare ctrl s o salva, quindi facciamo ctrl s per salvare la scena e questa scena sarebbe già pronta per special se non fosse che però c'è bisogno di almeno un elemento perché la scena sia vera e questo elemento è l'entripone, infatti andiamo a vedere praticamente le scene, gli esempi che ci dà e in particolare abbiamo detto prima che possiamo andare a vedere tutte le scene, ok? e abbiamo l'environment che era la nostra scena più semplice e come vedete nella scena più semplice che è questa, la cosa più importante è l'entrance point, l'entrance point vedete è un oggetto, qualunque esso sia, può essere un, in questo caso è semplicemente un oggettino che non si vede nemmeno ma la gente entra praticamente lì, entrance point, quindi ricordatevi entrance point, andiamo nella nostra scena Pluto dove non c'è entrance point, facciamo il più, anzi lo cerchiamo qua sotto, cerchiamo qua e cerchiamo entrance point, vedete entrance point c'è, quindi prendiamo un entrance point e ce lo mettiamo praticamente da noi, ecco vedete che abbiamo il nostro primo oggettino, il nostro primo oggettino che è Spascia, ora questo oggettino come vedete è messo un pochino più alto, quindi 4 metri sopra e quindi in teoria dovrebbe anche andar bene, allora vediamo adesso se questa scena qui non c'è niente, anzi di solito l'usanza in tutti i mondi virtuali di creare almeno un cubo, giusto per avere un qualche cosa, quindi creiamo ancora il cubo, quindi facciamo create 3D objects cube, questo cubo lo riportiamo anche questo in un modo, ecco lo mettiamo più o meno al centro, poi con le sfrecce lo mettiamo più o meno laterale, l'appoggiamo sul piano, ecco qui dovremmo accertarci di metterci anche un altro materiale, quindi io credo di averci un altro materiale che ho creato prima che era il red, c'è un colore di questo colore qua, sfruttiamo questo e gli mettiamo questo, ok quindi viola, quindi il cubo è viola, quindi la nostra scena è composta in questo momento da una luce direzionale, da una camera principale del piano su cui camminiamo, ecco accertiamoci che il piano abbia il mesh collider, il cubo anche dovrebbe avere il mesh collider, accertiamoci che siano su un layer giusto, i layer su cui possiamo mettere comunque sono diversi layer, quindi se fosse delle altre cose che servono, poi lo si vedrà successivamente, ma è importante che siano nell'environment, ok. Allora, fatto questo, quindi abbiamo detto che dobbiamo tornare al spasher, andiamo sull'account, vediamo se siamo a posto, rifacciamo il getlogin token, che abbiamo visto, lo rifaccio una volta in più perché sono stato scottato, ma voi probabilmente non dovete farlo tutte queste volte, ok. Però una volta fatto questo, passiamo finalmente alla config. Allora, config vuol dire che noi dobbiamo decidere innanzitutto tutto questo, tutto questo impianto, in quale mondo vogliamo metterlo, e quindi possiamo, ci sono i vari mondi, possiamo mettere lo spazio, cioè innanzitutto dobbiamo capire che cosa vogliamo creare, no? Vogliamo creare un qualche cosa, uno spazio in questo caso, oppure un template, oppure un avatar, oppure un prefab object, oppure un avatar avatar, ci metto ancora. In questo caso costruiamo la cosa più semplice, che è lo spazio, e lo spazio abbiamo detto che dobbiamo associarlo a un mondo, lo associamo al mondo questo qui, ZT9, che come vedete non c'ha un nome, perché quello si associa dalla finestra del sito, e l'active package in in questo caso, dobbiamo, ecco, dobbiamo metterlo qua, quindi il, quindi space, questo qui lo chiamiamo praticamente Pluto, ok, e lo chiamiamo space, facciamo space, ecco, facciamo così adesso tutto torna, quindi lo space è Pluto, quindi facciamo Pluto, come vedete ci ha segnato un numerello che serve per debug, serve poi per poterlo ripristinare, poterlo fare eventualmente anche in un altro computer, questo è un numerello molto importante, la scena dei riferimenti non è pacchio, perché lo vogliamo mettere su Pluto, quindi sostanzialmente picchiamo qui e scegliamo Pluto, e poi dobbiamo metterci un image placeholder, che è questo, quindi ho messo questa immaginina che non c'è niente, di particolare, ma voi potete inventarmi una, l'importante è che sia una 1024x512, ok, una volta fatta questa operazione, siete, potete usare, potete fare un test di questa, di questo spazio, prima di fare un test, controllate con issues, che sia tutto a posto, quindi andate su issues, fate refresh, e vedete che ci sono, ok, dice che non ci sono una tunnel camera, e c'è un audio listener, l'audio listener non ce l'ha, perché probabilmente l'abbiamo fatta da zero, quindi, da zero cosa, quindi dobbiamo, sostanzialmente, l'audio listener è associato alla main camera, che non c'entra, quindi togliamo la main camera, quindi se togliamo la main camera, e facciamo un refresh, vedete che adesso l'unico problema che abbiamo, serio, rosso, è che sono il thumbnail, allora come facciamo a risolvere, ah ecco, possiamo fare l'execute, possiamo fare anche un, creare una thumbnail camera in the scene, ok, la thumbnail camera è un oggettino che creandola, praticamente fa una foto, in sostanza, quindi se andiamo alla thumbnail camera, e viene fuori questa foto, che diventa sostanzialmente il thumbnail, quindi il thumbnail camera può servire per sopperire il fatto che non avete l'immagine, tra l'altro, facendo le issues, vi fa vedere anche la target scene, che è quella che si avete impostato nella config, quindi se non trovate più la scene, la potete accedere da qua, facendo refresh, sostanzialmente, siete sicuri che non deve essere rossa, una volta che siete a posto con questa configurazione, quindi configurazione, avete risolto le issues, e in realtà qui ci sono delle issues, ma sono minori, cioè sono di illuminazione, secondo lui non è la migliore, ma noi cosa facciamo? Facciamo che andiamo qua, su text active scene, quindi facciamo text active scene, quindi questo cosa succede quando si fa il test active scene, che viene compilato tutto il necessario, cioè tutti i shader, eccetera, e viene lanciato una sandbox, la sandbox serve per provare a vedere che il nostro mondo, il nostro spazio in questo caso, si comporti come ci aspettiamo, e come vedete abbiamo, ecco, la nostra cosa, ora, il fatto che lì compai un altro oggetto è stato interrattabile, è perché era un prefab che mi ero messo, quindi i miei prefab mi accompagnano in qualche modo, beh, questo però, la scena è questa, quindi se io vado praticamente su, vedete che collide, collide tranquillamente, quindi questo è il mio mondo, se vado fuori dal mondo mi riporta al punto di spawn, quindi non c'è niente di particolare, le luci, come vedete, sono tutte a posto, e quindi, a parte questo oggetto che vi spiegherò, che ho fatto praticamente dopo, è semplicemente un cubo prefab, comunque abbiamo fatto il nostro primo spazio. Mancherebbe ancora, e ve lo faccio vedere per completezza, il meccanismo di publishing, quindi il publishing, cioè una volta che siete sicuri che il vostro mondo funzioni, quindi sia bello, cioè quello che vi aspettate, io ad esempio ho notato che in alcuni mondi le ombre, che dipendono dalle luci che mettete, qui la luce, la luce, vi ricordo che è questa qua, quindi cliccando sull'uce viene così, quindi se ad esempio girate la luce cambiano anche le ombre, quindi queste le ombre un pochino ve le fa vedere, ma non è detto che siano quelle giuste, per vedere le giuste dovete andare appunto nel test, se lo volete invece pubblicare dovete andare su sempre specialist, anzi lo fate anche di qua volendo, qui tra l'altro avete il config, quello di prima, lo potete vedere, e potete fare il publish, oppure se non volete fare il giro dove volete, cioè che vi crea problemi, fate direttamente il publish, quando si fa il publishing, succede che l'oggetto praticamente, beh, beh, si fa il publish, qua, se l'oggetto è, non ci sono problemi di copyright o altre cose, quindi che, e che comunque la scena funzioni, quindi ovviamente potete camminare, e quindi vi dice esplicitamente di fare la prova nella special sandbox, allora potete fare continuo, quando fate continuo, adesso non lo faccio vedere perché mi pubblicherebbe uno spazio, però lo spazio viene pubblicato, quindi è accessibile praticamente in special, ma ci impiega circa 15 minuti, a volte anche di meno, e vi arriva una mail sulla vostra mailbox, quindi abbiate fiducia, aspettate quei 5, 10, 15 minuti, se entro 15 minuti non è successo niente, allora vuol dire che o c'erano dei problemi, non ve l'ha pubblicato perché c'erano degli errori, oppure c'è veramente un baco di special, e a quel punto lì, una volta pubblicato il vostro spazio, potete poi ritrovarlo nell'elenco degli spazi, quindi quello che praticamente abbiamo visto, quindi qua praticamente queste sono andate in special, e ve lo trovate praticamente nell'elenco degli spazi, potete anche cambiargli icona, potete cambiargli nome, eccetera, condividerlo, però attenzione non è pubblico in assoluto, per essere pubblico in assoluto c'è ancora uno step, un paio di step da fare, ma per i fini nostri diciamo è più che sufficiente per informarvi come potete operare. Allora, al prossimo video analizzeremo lo script, soprattutto su un prefab, che è questo signore qua, questo qui è un prefab che vedrete che cliccando fa uno suono che probabilmente sentite anche nel video e cambia colore, quindi questo, fare un prefab fatto così è banale, però se vi ricordate in Second Life era una delle primissime cose che facevamo, e quindi al prossimo video per imparare le basi e fare un visual scripting, va bene, a dopo.